puntata tripartita quella di oggi di gong dedicata a tre titoli che arriveranno sul mercato lo stesso giorno in particolare domani il 22 di marzo arriveranno dragon's dogma 2 rise of the ronin e princess peach showtime tre prodotti molto diversi tra loro che comunque insomma abbiamo seguito anche nelle scorse settimane negli scorsi mesi che al loro modo hanno saputo un po incuriosirci vi anticipiamo che insomma uno dei tre passa la prova e viene accolto con grande è con maniera un grande entusiasmo gli altri un po meno io direi di cominciare proprio dalla punta di diamante di questo tridente diciamo così che è dragon's dogma marco l'ha giocato per molto tempo si è anche confrontato con tanti altri autori redattori insomma che l'hanno provato in queste settimane pre release ed è rimasto estasiato nonostante qualche complessità qualche complessità è un eufemismo allora sì diciamo che io l'ho giocato per una trentina di ore che non è un tempo mai effettivamente sufficiente per portare a termine un gioco che lo dico subito è estremamente longevo capcom non ci ha esattamente messo nelle migliori condizioni per poterlo recensire pensate che il codice è arrivato a nemmeno una settimana dalla recensione e quindi si è fatto quel che si poteva il punto è stato che queste 30 ore in realtà mi sono volate in un attimo nel senso che nonostante sia un gioco profondamente legato al meccanismo open world e gli open world in generale uno non sono mai stati cosa mia ma poi in particolare con la deriva dei tempi moderni vorrei dire così mi hanno proprio stancato a parte davvero un paio di eccezioni ecco dragon's dogma 2 scusate fa proprio parte di questo di questo gruppo di questo novero e è un gioco di cui mi sono sinceramente innamorato nel senso che quella componente puramente avventurosa legata ad un'idea di interazione con il mondo di gioco che è vasto ampissimo ricco sfaccettato e soprattutto interamente costruito su quella modalità di gameplay emergente o emerging gameplay come si dice in inglese legata a un'idea di cose che ti possono succedere in maniera randomica imprevista un po come la vita nel gioco in realtà il game design base è anche piuttosto banale e spartano a livello soprattutto di missioni e anche di trama mi verrebbe da dire spesso e volentieri devi andare da un punto a un punto b il punto però è che quello che ti succede nel fare questo viaggio viaggio che è pesante scomodo difficile si sentono le distanze perché volutamente it's uno non ha inserito le cavalcature e quindi devi trovarti la strada una strada che a volte può trovare appunto molte diramazioni lungo il percorso ma quello che ti succede durante questo viaggio fa parte dell'esperienza stessa di dragon's dom 2 guarda io voglio dire solo una cosa io non ci ho giocato e fra l'altro proprio non mi sono neanche avvicinato al titolo nel corso delle anteprime quando si hanno fatto provare insomma a mesi dall'uscita infatti sarà divertente vederti giocare perché secondo me quanto ci sbattere la testa sarà divertente però volevo dire che insomma sono uscite le recensioni perché è scaduto l'embargo e assieme alle recensioni sono arrivate non so quanto in linea con le possibilità dell'NDA ma un sacco di piccoli filmati video che mostravano proprio delle situazioni di emergent gameplay e che erano veramente meravigliose cioè dei troll enormi che inciampavano di fronte ai burroni è successo anche a me rimangono appesi per le dita esatto e tu li puoi uccidere sostanzialmente col pendogli un dito alla volta quasi esatto e insomma tutte tutta un'altra serie di momenti di episodi di piccole cose di piccole sorprese che sembrano così spuntare dal nulla anche se poi evidentemente sono molto molto pensate che mi hanno fatto insomma mi hanno sono riuscita a meravigliarmi anche solo guardandole proprio così in maniera frammentata mi hanno trasmesso l'idea della ricchezza di situazioni che nel gioco si possono verificare guarda Dragon's Dogma è proprio l'epopea che vive di questi momenti la parte diciamo di gioco come posso dire standardizzata e obbligatoria in realtà ripeto è anche piuttosto banalotta ma tutto quello che succede gli dà un tono gli dà un senso di esplorazione gli dà un gusto sincerissimo per l'avventura legato anche al fatto di non essere solo è un gioco profondamente single player ma è un gioco che è strutturato in una maniera molto particolare nel senso che tu ti crei il tuo personaggio attraverso un editor che lo dico forse è il migliore di tutti i tempi tanto è vero che avevano rilasciato una demo solo e soltanto per permettere di creare il personaggio e la pedina il personaggio si chiama Arisen come simbolo perché è questo prescelto che ha un legame speciale con una stirpe draconica malvagia ed è come se fosse lo yng lo yang cioè il bilanciamento del mondo attraverso queste due forze tu ti fai questo personaggio ma ti devi creare anche una pedina la pedina sostanzialmente è il tuo paggio che viene ricreato anche in questo caso in una maniera estremamente ricca e dettagliata tramite l'editor tu scegli una classe sia per il tuo personaggio che per la tua pedina la classe inizialmente si sceglie tra quattro che sono guerriero, mago, arciere e ladro io ho fatto il ladro nel corso del gioco arrivano a essere dieci le classi per la Risen se non ricordo male otto invece per le pedine perché due sono esclusive per il protagonista dai una classe quindi al tuo personaggio, una classe alla tua pedina e poi nel corso del gioco evochi in quelle che si chiamano faglie che sono delle specie di rocce che sono di fatto dei portali si trovano all'interno delle città ma anche sparse in giro, le devi trovare in quel caso puoi evocare dei personaggi che sono le pedine di qualcun altro vi faccio un esempio per farvi capire io ho creato i miei due gatti, Edgar e Pera perché ci sono questi personaggi che sono degli umani felini un po' furri Pera è la mia assistente e ho scelto di farla arciere quindi io ho creato questo personaggio che non solo accompagna me nelle mie avventure ma per esempio Wallone ha evocato Pera nella sua partita quando tu crei il personaggio, scegli oltre alla sua classe che puoi cambiare in corso d'opera sia la tua che quella del personaggio appunto della pedina metti una missione, per esempio io ho scelto che Pera in un certo momento volesse diventare una cacciatrice di orchi quindi se qualcuno la evocava e portandosela a spasso le faceva uccidere un orco bastava partecipare a una kill, non doveva fisicamente ucciderlo lei io in cambio offrivo a questa persona mille monete d'oro questo sistema rende molto particolare l'interazione con i personaggi perché tu di fatto evochi qualcuno che appartiene a una partita di un altro che non deve essere online perché tra l'altro non è lui ma è il suo compagno quando gli fai fare quella cosa oltre ad avere la ricompensa il personaggio potrebbe scoprire degli elementi di trama, di gameplay, di tesori nascosti e andare poi a raccontarli alla persona che controlla quella stessa pedina per esempio io porto Pera, cioè Wallone porta Pera in una zona dove io non sono mai stato lei scopre un tesoro segreto, quando io passo di lì mi dice Master io qui ci sono già stata in un'altra mia avventura se mi vuoi seguire ti faccio vedere dove c'è un tesoro è bellissimo, quindi praticamente nonostante sia profondamente single player anzi esclusivamente single player di fatto c'è comunque una sensazione di comunità di partecipatività sostanzialmente grazie a questo multiplayer asincrono che era già caratterizzante del primo capitolo ma che qui è stato ulteriormente incentivato e affinato guarda è così e è anche molto divertente il fatto che le tue pedine cioè le pedine che incontri lungo il tuo cammino le puoi anche ritrovare perché ci sono dei momenti in cui dici vabbè voglio cambiare la squadra, mando via un guerriero e ne prendo un altro oppure mando via quel guerriero perché la quest che lui aveva associata a se stesso quindi uccidere un'arpia già l'ha fatta ne prendo un altro per prendere la sua ricompensa quindi è anche questo ricambio la cosa bella è vedere come a parte diversi esteticamente ma anche diversi a livello di carattere possono essere due guerrieri perché la pedina ha proprio una fase comportamentale che tu li associ e è molto molto figo vedere che tu puoi ritrovare nel corso del tuo cammino la stessa pedina che magari avevi trovato otto ore prima perché è in giro per il mondo e lei ti saluta avendo cognizione di essere stata parte delle tue avventure e dicendoti ah ci rivediamo sapevo che ti avrei ritrovato quindi è proprio un gioco insomma che appunto è costruito su questi dettagli sull'attenzione incredibile per diciamo insomma queste trovate, questi colpi di genio assolutamente sì è costruito poi su una parte action ricchissima perché è un action by Capcom cioè dove la parte di combattimento c'è, è principale è meraviglioso vedere quanto cambia il gameplay se usi una classe oppure un'altra per farvi capire il guerriero è il classico tank vai a testa bassa, te ne sbassi quindi con il ladro devi usare delle tattiche molto più stealth con l'illusionista che è una classe nuova non devi attaccare i monster devi solo buffare e debuffare ma non devi attaccare direttamente e quindi questa cosa è molto figa a volte anche un po' sì a volte anche un pochino diciamo comunque da capire perché si vede che hanno preso degli elementi da monster hunter per esempio non c'è il lock on il punto è che è quello che fa davvero molto specie in un gioco così profondo, così rico, così sfaccettato ci sono una serie di difetti inspiegabili per esempio la varietà dei nemici è abbastanza discutibile ne avrei graditi di più ma quello che è incomprensibile davvero sono tutta una serie di storture by design cioè si vede che ce le hanno volute mettere con delle scelte completamente controintuitive che non è che danno dei problemi uccidono completamente la quality of life del gioco pensate che vi capiterà magari di perdere degli elementi importanti perché li avete dati a una pedina che ha più forza di voi quindi può portare più carico cambiate pedina e nel cambiare pedina vi perdete quell'equip che magari vi serviva per recuperare l'energia oppure tutta una serie di storture legate a devo consegnare una quest e non riesco a capire dove devo andare perché l'indicazione è vaghissima quindi è proprio un problema di quality of life sembra che non abbiano voluto sostanzialmente adattarsi a quelli che sono un pochino gli standard di oggi è un gioco completamente ermetico è assolutamente così che tante tante volte in maniera veramente ottusa lo ha definito Sorichetti e sono davvero d'accordo cioè ti fa fare dei giri assurdi quando dirti le cose in modo più esplicito non è che te l'avrebbe reso meno hardcore l'avrebbe semplicemente reso più fruibile e però va così e sono dei difetti seri perché secondo me siamo a dei livelli che qualcuno potrebbe trovarlo così antipatico e fastidioso da mollarlo il punto è che però al tempo stesso l'altro lato della medaglia è un gioco davvero così profondamente unico così originale così compiuto anche rispetto a quella che era la visione dell'originale che secondo me lascia proprio il segno nella seconda parte di questa puntata vi parliamo invece di Rise of the Ronin esclusiva PlayStation pubblicata da PlayStation stessa ma sviluppata dal Team Ninja e quindi insomma da Tecmo Koei che insomma lo anticipiamo subito non verrà recepita probabilmente con lo stesso entusiasmo eh mi sa di no con cui invece abbiamo accolto Dragon's Dogma di Rise of the Ronin vi abbiamo parlato anche qualche settimana fa non mi ricordo se anche qui in GOG ma di sicuro in una video anteprima che potete trovare su YouTube credo anche qui fra ne abbiamo parlato abbiamo già anticipato come fossero due produzioni comunque un po' diverse proprio dal punto di vista anche dei mezzi impiegati in campo e insomma per riassumere un po' quelle che erano le nostre prime impressioni dopo un paio di ore di gioco Rise of the Ronin già sembrava un titolo un pochino peculiare anzi un'esclusiva un pochino peculiare perché nonostante avesse il marchio PlayStation Studio non mostrava minimamente l'ambizione e la qualità produttiva che di solito è associata proprio a quel marchio lì è chiaro non si tratta di un'esclusiva first party però comunque c'era il bollino di Sony di PlayStation e era un po' faceva un po' strano vedere un titolo che comunque proprio non ce la faceva per esempio dal punto di vista tecnico con uno dei render diciamo meno efficaci meno espressivi di questa generazione anzi sembrava un render bloccato a un paio di generazioni fa a livello di animazioni a livello di mole poligonale a livello di illuminazione una delle più piatte di sempre insomma era proprio un gioco che non arrivava neppure lontanamente agli standard di questa gen però insomma visto che non si può limitarci ad analizzare la componente tecnica giocando nelle prime ore avevamo trovato degli elementi di interesse il gioco per la prima decina di ore diciamo trova un suo equilibrio e riesce un attimino a far valere quelli che sono i suoi punti di forza ovvero un sistema di combattimento molto efficace il combat system è un mix fra Nioh e Wolong quindi le due produzioni precedenti del team ninja ma al di là di questo sistema di combattimento che è stimolante è tecnico a sufficienza è sfidante ed è anche molto dinamico e anche molto violento lo voglio dire una cosa che non avevo citato nell'anteprima e che non mi aspettavo è che si tranciano proprio le teste gli arti ma anche perché questa cosa secondo me è emersa dalle prove ma non l'hanno mai neanche lontanamente enfatizzata loro a livello di comunicazione e secondo me è un po' un peccato perché comunque sai Igor per certe persone tipo me tira è una cosa interessante vedrai guarda quando lo giocherai ti accorgerai di questo aspetto dicevo oltre al sistema di combattimento di interessante c'è anche l'ambientazione storica perché si parla del Giappone ma non del Giappone feudale classico bensì del Giappone che si affaccia all'epoca moderna si parte dal 1858 poi si va avanti per 5-6 anni una cosa del genere raccontando quindi la fine proprio dello shogunato del periodo feudale e l'apertura anche del Giappone delle sue città alla cultura occidentale quindi all'occidentalizzazione del paese il periodo quindi è diciamo interessante originale ci sono tante figure storiche che hanno di fatto scolpito proprio nella realtà il volto del Giappone moderno un altro elemento interessante che avevo ritrovato era un senso della misura lo definirei così perché è vero che insomma il gioco è un open world ma è anche vero che sembrava non avere quella sorta di bulimia contenutistica degli open world moderni per cui il giocatore viene costantemente soverchiato da una serie interminabile di missioni di attività di icone che si affollano sulla mappa di gioco ecco purtroppo questo equilibrio che secondo me per un po' tiene io avevo giocato due ore tiene più di due ore una decina di ore ce la fa alla fine si rompe si rompe perché in realtà cioè non alla fine dopo dopo sì sì dopo qualche ora dopo qualche ora si rompe si rompe perché in realtà arrivano tante di queste attività infinitesimali minimali più che secondarie che insomma ti ti vengono sbattuti addosso e finiscono per sovrastarti ma si rompe anche perché non c'è un level design interessante mai né nel diciamo nell'open world né in alcune missioni istanziate che quindi vengono si compiono in delle aree indipendenti scisse dall'open world che però non sono mai interessanti proprio a livello di progressione avanzamento senso della scoperta e questa cosa insomma succede appunto anche nelle mappe nelle tre mappe aperte non c'è mai uno spunto proprio a livello non voglio dire solo scenico ma di struttura di insomma esplorazione non c'è niente e quindi il gioco procede insomma in maniera estremamente iterativa e ripetitiva se già sono ripetitive le missioni questa piattezza generale rende l'avanzamento molto molto monocorde c'è anche secondo me un problema di varietà dei nemici è chiaro che qua insomma il gioco rappresenta vuole avere una pretesa di realismo quindi rappresenta un momento storico reale non è che ci può mettere i demoni o le bestialità che c'erano per esempio in Nioh che insomma presentava un oriente fantastico non può farti combattere contro una manta gigante che vola esatto però è chiaro che quando c'hai solo una serie di nemici che sono sostanzialmente umani che imbracciano 5-6 tipologie di armi pure le boss fight sono sostanzialmente delle versioni potenziate di nemici che trovi anche in giro regolarmente e classicamente nell'open world e non c'è neppure quella cosa che dicevo ovvero proprio la struttura la cura nel level design è chiaro che reggere per 30 ore in questa situazione è molto molto difficile e la noia sopraggiunge molto molto presto purtroppo secondo me si rompe anche un altro elemento che è quello narrativo perché se è vero che l'ambientazione il contesto storico è interessante purtroppo il gioco continua a buttare nel mezzo una marea di personaggi di nomi che magari sono anche nomi importanti per l'epoca ma che è come se il gioco li volesse semplicemente accumulare con un fare un pochino enciclopedico ma poi non gli dà mai lo spazio per brillare non gli dà mai lo spazio per essere integrati bene nel racconto e nella narrazione e quindi insomma tutto l'entusiasmo svanisce molto presto credo fra sia un gioco in cui è mancata semplicemente un po' di visione di controllo asciugarlo un po' di più capire quali potevano essere magari i punti a favore e magari anche gestire l'open world cioè tante delle difficoltà di cui vi abbiamo raccontato sia a livello tecnico che a livello proprio forse pratico di esecuzione dipendono dal fatto che Team Ninja non aveva mai sviluppato un gioco di questo genere e forse si sono trovati un po' più in difficoltà del previsto un po' un peccato perché è chiaro che ci si aspettasse qualcosa di diverso anche se secondo me i vari trailer i vari showcase avevano fatto snasare abbastanza che fosse una produzione più modesta del solito mettiamola così e in effetti si è un po' confermata tale si guarda voglio dire non proprio un disastro integrale perché comunque il combat system è piacevole dall'inizio alla fine ed è l'unico elemento che poi tiene fino in fondo però sicuramente ad oggi l'esclusiva Sony più deludente di tutta questa generazione nella terza e ultima parte di questa puntata un po' più lunga del solito ma insomma la giornata è molto importante vi parliamo brevemente di Princess Peach Showtime dico brevemente non perché vogliamo lasciargli meno spazio ma perché in realtà ve ne parliamo un po' per interposta persona la recensione per round two e per final round la scritta Mattia Ravanelli una firma storica insomma della stampa italiana che speriamo vi faccia piacere trovare anche sui nostri spazi noi attraverso le sue parole che però potete anche ascoltare direttamente se appunto andate sul canale youtube o se andate a leggere su final round e c'è anche l'audio review quindi lo possiamo anche ascoltare qua direttamente con la voce di Mattia è vero però se volete un piccolo riassunto ve lo facciamo noi lo lascio fare a Marco che comunque con il gioco un pochino c'era entrato in contatto ve l'aveva anche raccontato qualche settimana fa sì sì e poi con Mattia ho registrato proprio la video recensione il punto è che come anche in questo caso un po' si era intuito è un titolo meno ambizioso del previsto da un lato ha dei grandi meriti ovvero quello anche un po' concettuale di mettere finalmente pitch e tutto quello che rappresenta al centro del discorso c'è una pitch che non è più la classica damsel in distress ma è esattamente sulla scia del film tra l'altro una curiosità pensate che hanno modificato in corso d'opera la key art ufficiale il render che sta in copertina di pitch per rendere l'espressione del volto più simile a quella della pitch del film non è identica ma soprattutto la distanza degli occhi la nasa della punta assomiglia di più a quello del film di super mario e in continuità con quello questa pitch riesce a vestire dieci ruoli diversi dalla pasticcera alla spadaccina passando per la cowgirl è una pitch che indossa abiti differenti per modificare leggermente il gameplay di un gioco comunque d'azione in 3d con un 3d che non è 2.5d perché comunque c'è un elemento di profondità ma non è neanche un gioco complesso come potrebbe essere umari odyssey per intenderci è tutto tematizzato sull'idea del teatro è proprio ambientato all'interno di un teatro con varie stanze che contraddistinguono di fatto pièce atrali differenti ed è bello vedere cosa hanno fatto a livello di direzione artistica con questi palcoscenici che si allestiscono fatti di elementi finti fili che sorreggono cose cavalli di legno e situazioni del genere c'è anche proprio il palcoscenico con il pubblico che vedi essere sostanzialmente davanti alla televisione e che quindi sta guardando le cose e fa un po' rumore commenta eccetera eccetera l'idea è interessante ed è bello parlare a un pubblico diverso perché è un gioco molto più semplice che si gioca completamente con due tasti ed è un gioco anche completamente single player Nintendo in maniera abbastanza secondo me coraggiosa e particolare ha scelto di rinunciare a quella co-op che invece tante volte aveva creato delle dinamiche magari di gameplay dove uno giocava e l'altro aiutava un po' l'abbiamo visto in Kirby l'abbiamo visto in vari Mario eccetera eccetera qui è un gioco assolutamente single player ma e questo è forse il principale difetto del gioco è un titolo profondamente elementare cioè proprio semplicissimo non è stratificato come tanti giochi di Nintendo che possono essere goduti da pubblici diversi questo davvero è sfacciatamente per un'utenza più giovane o comunque più casual è il punto che oltre ad avere diciamo questo limite anche nel parlare nel rivolgersi a un pubblico del genere comunque a volte ha delle soluzioni non particolarmente efficaci è anche questo un po' ripetitivo tante volte il tutto si riduce all'effetto wow di vedere Peach che fa una cosa diversa perché appunto si traveste in una maniera particolare ma poi l'effetto dura molto poco e spiace perché diciamo che poteva essere un'occasione per creare qualche cosa di un pochino comunque più dotato di carattere non è del tutto così è comunque una produzione curata anche se per esempio dal punto di vista tecnico sono 30 fps nemmeno stabilissimi eccetera quindi potevano fare di più in generale la sensazione è quella non è diciamo uno di quei giochi forse imperdibili per questo finale del ciclo di vita di Nintendo Switch e con questo arriviamo alla fine di questo episodio interamente dedicato alle produzioni in uscita mentre per commentare un pochino le news del mercato e vi anticipo che in questi giorni ne sono arrivate noi torniamo domani ciao ciao